Quando i pigi sono affamati, ecco come mangiano. Ed è proprio così. Sono le teglie in cui abbiamo mangiato e mangeremo. Guarda quanto la puliscono bene. Guarda il niubo. Il piccolino che viene scacciato. Quello è il niubo. Viene escluso. Anche perché non è abbastanza intelligente da arrivare dall'altra parte. Cerca di... È stupido proprio. No, non può. Se va dall'altra lo picchiano. Guarda come li scaccia. Però se lui fa il giro... Vedi? L'alfa. Guarda come la stringe. Potrebbe mangiare dovuto. Ma la stringe nell'angolino per fargli capire chi cazzo è il capo. Adesso guarda come si... Guarda. Hai visto? Good system. E il bambino deve aspettare il sotturno. Prima c'è lui. Non è che rovinano la pentola con i denti? No, non possono. È un po' duro, sì. Sì. Sbocco e mangiano. Oh, che bello, raga. Minchia, sto male. Me ne vado, bai.